Parole in cammino, sfide, domande, forse e risposte. Un programma a cura di Andrea Monda. Ecco amici in ascolto, bentornati a Parole in cammino, sfide, domande, forse e risposte. La seconda tappa di questo viaggio, avete sentito la sigla, un po' l'eco del si viaggiare, il famoso brano di Lucio Battisti. Siamo partiti una settimana fa, questo è un appuntamento settimanale che viene dato ogni venerdì a quest'ora alle tre e mezza sulle frequenze di Radio Vaticana e ci potete seguire sulla pagina Facebook di Radio Vaticana Vatican News. Il viaggio, il cammino, Parole in cammino. Siamo partiti una settimana fa con il sognare. Uno potrebbe chiedersi ma che c'entra il sognare col camminare? C'entra perché se uno ha un sogno allora si sveglia per poterlo realizzare. E anche oggi partiamo da una parola che apparentemente non dà l'idea del movimento, che è desiderare. Innanzitutto è un verbo, non è un sostantivo. E poi è il desiderare, il secondo passo dopo il sogno. Uno sogna, desidera e quindi si metterà in moto. Ma per farlo, come al solito, non sono da solo perché questo programma è innanzitutto una conversazione tra diverse generazioni. Ci sono io, Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, e ci sono venuto a trovare due amici. Leonardo Marcucci, eccolo qui. Eccoci qui, ci siamo. E Leonardo Carducci. Salve, eccoci qua. Leonardo e Leonardo, mi sa che dovrò tornare ai tempi della scuola e chiamarvi per cognome. Mi sa proprio di sì, mi sa che conviene, assolutamente. E allora un po' di nostalgia, canaglia. Siete pronti? Assolutamente. Oh, allora, Marcucci e Carducci. Perché avete capito che il legame, ciò che ci lega, è un'esperienza passata, terribile anche, drammatica. Eravamo i migliori studenti forse del Pilo Albertelli noi. Questo l'hanno detto anche gli altri due che sono venuti venerdì scorso. E tu più onestamente che hai da dire? Ma io non so che siamo stati forse i peggiori, vorrei dire. Ecco, vabbè, tra i migliori e i peggiori, diciamo che c'è una via di mezzo, andiamo a percorrerla, raccontandoci anche, esplorando che cos'è questo desiderare. Desiderare è un verbo particolare, perché se andiamo a vedere l'etimo, l'etimologia, viene dal latino e ha a che fare con le stelle. Perché desidera, no? Sidera, sidus, sidera. Sono le stelle, sono le costellazioni, gli astri. Perché per gli antichi gli astri erano molto importanti. Tant'è vero che si diceva che quando uno nasceva, nasceva anche la sua stella. E quando uno moriva, moriva la sua stella e tutta la sua vita era seguire, in qualche modo era seguita da una stella. Tant'è vero che quando le cose andavano male si diceva, e si dice ancora, è un disastro, disastro, la cattiva stella, no? In qualche modo quando uno perde il contatto con le stelle, le cose vanno male. E il desiderio indica proprio questo strappo, cioè la mancanza delle stelle. Da qui nasce lo struggimento, no? E c'è un'immagine, prego la regia di mandarla, di un film famosissimo che tutti voi avete visto, che è quello del Re Leone, che ci dice proprio questo. I protagonisti di quel film, che sono Pumba, Timon e Simba, l'avete visto da bambini Re Leone? La nostra infanzia, assolutamente. Adesso capisco tante cose. Sapete che quella è la storia di Amleto, di Shakespeare, rifatta dalla Disney. Tutti e tre sono spavaranzati e guardano le stelle e si interrogano. Ho scelto un riferimento pop, Re Leone, ma potevo per esempio citare Leopardi, no? Il pastore errante, no? Il pastore dell'Asia, nel canto notturno del pastore errante nell'Asia, che si interroga guardando le stelle. Le stelle ci interrogano, ci interpellano, ci dicono in fondo ma qual è il tuo destino, qual è la tua vocazione, qual è la tua meta, cosa stai a fare lì, no? E allora l'uomo cerca nelle stelle, in qualche modo, sin dall'antichità, un segno, una traccia, una risposta. Questa è la prima cosa che a me è venuta in mente, pensando alle stelle, e al desiderare. Marcucci, a te cosa ti è venuto in mente? Allora, dite un po' che cosa fate, eh? Allora, io scrivo di cinema e calcio e studio cinema, quindi ovviamente andremo a toccare quella che è la settima arte, perché per quanto mi riguarda, quando mi è stato presentato l'argomento, mi è subito venuto in mente che il cinema è legato a doppio filo al tema del desiderio, perché non soltanto per la struttura stessa narrativa che poi accompagna la maggior parte dei film che conosciamo, quindi una struttura in cui il protagonista, al protagonista manca qualcosa e si muove per ottenerla, ma anche perché poi il cinema nasce in braccio a quello che è il sistema economico, ovviamente, del capitalismo, che opera proprio sui desideri delle persone e cerca addirittura di acuire i desideri delle persone per ovviamente alimentare il sistema. I due film che ho scelto, i due film che sono due estremi dell'altro, sono appunto due film piuttosto coraggiosi, entrambi che in realtà sono una denuncia sociale rispetto al capitalismo, e sono La vita meravigliosa di Frank Capra e Quarto potere, Citizen Kane meglio conosciuto come Quarto potere in Italia, di Orson Welles. Insomma, sei andato così. Sì, due cosette. Due cosette, sì. Gli anni 40, tutte e due, contemporanei. Esattamente. Due sguardi diversi. Due sguardi molto diversi. I due grandi, però, giganti del cinema all'interno. Diversi, ma non così tanto in realtà. Vai, spara. Perché La vita meravigliosa, appunto, esce nel 1946, Frank Capra conosciuto, diciamo, per il suo lato, la commedia di Frank Capra è famosa in tutto il mondo, però La vita meravigliosa è un film apparentemente rassicurante, nel senso che sì, l'esito ovviamente è rassicurante, ma il protagonista, diciamo, vive una parabola particolarmente critica. È quasi un incubo, un certo punto. Sì, sostanzialmente un incubo. Diciamo che all'interno del film ci sono appunto i personaggi di George Bailey e il personaggio di Potter, che è sostanzialmente il villain, il cattivo della vicenda, che sono un po' le due facce... dalla famiglia e dalla comunità, dall'altra quella di Potter, che cerca semplicemente di accumulare il maggior numero di capitale possibile. Per tentare, appunto, di accumulare il maggior numero di capitale possibile, però per la propria famiglia e non per se stesso e basta, George Bailey, diciamo che a un certo punto si smarrisce completamente. Recupererà, diciamo, il tutto, in un momento in cui stava sostanzialmente per buttarsi al fiume, quindi il desiderio diventava il desiderio di morire. Sì. E recupererà tutto grazie sostanzialmente alla comunità e all'amore del... Invece Kane, che è il protagonista del capolavoro di Orson Welles. Charles Foster Kane, che è il protagonista di Quarto Potere, il capolavoro di Orson Welles. Al contrario, diciamo che si fa totalmente mangiare dal proprio egocentrismo, dalla propria voglia di, appunto, di magnate. e diciamo che lui attacca, Orson Welles attacca in maniera frontale i poteri forti in Quarto Potere, proprio perché sostanzialmente la parabola di Charles Foster Kane, che tra l'altro è ispirato a un magnate realmente esistito, è sostanzialmente una parabola in cui, con il finale in cui lui appunto cita Rosebud, cioè la scritta che era su uno slittino, su un famoso slittino, diciamo che il personaggio di Charles Foster Kane cerca di ottenere il maggior numero di oggetti potere possibile, sostanzialmente per sopperire a una mancanza, a un vuoto emotivo. E alla fine c'è questa carrellata che fa vedere tutti gli oggetti che lui aveva accumulato nel corso degli anni, tra l'altro una carrellata che fa sembrare quasi una città dall'alto, e poi alla fine si vede lo slittino che fa capire che tutto quello che è stato ottenuto prima da Charles Foster Kane era inutile, l'unica cosa che contava era semplicemente l'amore dell'infanzia. Ecco, mi è fatto venire in mente un passo del Vangelo, a che serve all'uomo conquistare tutto il mondo se poi perde la propria anima? Questo potrebbe essere un filiruce di questa nostra conversazione di oggi, perché il desiderio, come tutte le realtà umane, è ambiguo. D'una parte rivela l'anelito di pienezza, di felicità, di grandezza che c'è nell'uomo, dall'altra molte volte scivola in bramosia, avidità. Certo, assolutamente. E disumanizza l'uomo invece di elevarlo. Certo, mi viene in mente una canzone di John Lennon in cui c'è un punto in cui dice la vita è ciò che ti accade mentre fai i tuoi progetti. Do la parola al tuo omonimo Carducci, prima però voglio ringraziare per i saluti, perché abbiamo molto pubblico che ci segue, che è dell'incredibile, ma non per Radio Vaticana ma per voi. Ovviamente, ciao a tutti. Ciao a tutti. Joe, Joe, Vito, fedelissimo, Linda e anche Osvaldo che dice che siamo il top. Abbiamo già raggiunto la scala dei nostri desideri. Ottimo. Leonardo Carducci, tu che cosa fai? Lui fa il critico cinematografico, abbiamo visto come maneggia anche il linguaggio. Tu che fai? Allora, io ho studiato cinema e teatro al dance. Anche io maneggio l'ambito cinematografico, però sono un attore. Io studio teatro a Officina Pasolini, studio recitazione e appunto io mi ricollego al discorso del mio collega Marcucci, parlando di questo desiderio in senso negativo comunque. Ho sentito di Citizen Kane e di questo desiderio che prende sfaccettature molto scure. E appunto io porto queste opere di Anton Chekhov, un drammaturgo... Un'altra robetta molto leggera, questo drammaturgo russo... Non lo volete mettere in crisi, ho capito. La vendetta degli studenti contro il professore. Si va sui classi, sui classi. Doveva arrivare, doveva arrivare questo giorno, professore. Anche perché abbiamo fatto il classico. Ho sbagliato a invitarvi, giustamente. Allora sì, io porto Il gabbiano e Il giardino dei ciliegi di Anton Chekhov, due opere pesanti, insomma importanti e parlo del desiderio fallimentare. Che cosa significa? Allora, per quanto riguarda Il gabbiano, almeno secondo la mia visione, io ho visto un desiderio d'amore. Questo bisogno impellente, in qualche modo non risolvibile dell'amore da parte del personaggio principale che si chiama Costia e uno scrittore che vorrebbe trovare delle forme nuove all'interno del mondo che ama, sempre amore, il mondo del teatro, la scrittura e per tutto il tempo nonostante lui appunto ricerchi il successo in qualche modo a livello lavorativo di carriera, il suo vero progetto, tornando a una delle parole che appunto si collegano all'argomento di oggi. Il suo progetto è tremendamente veicolato dall'amore che prova, non solo per la madre, un altro personaggio molto importante di questa storia, ma anche per Nina, che è il suo amore. Secondo me c'è qualcosa di autobiografico. Probabilmente con il gabbiano morto del testo. Io sono il gabbiano morto. Non scoppiare in lacrime adesso tutto in un botto. Si contenga. Non c'è problema. Si contenga. No, tra l'altro io vi sto guardando con ammirazione, perché quando eravate al liceo, mica eravate così. No, direte no. Eravamo meglio al liceo. Adesso... Mi avete fatto soffrire per cinque anni. Lei però ha creduto in noi, questo c'è da dirlo. Ha cercato sempre di prenderci dal tenebre. Voi avete sentito questo? Allora ho sbagliato qualche cosa. C'era qualcosa che non andava. Allora, Chekhov, vai. La seconda opera, appunto, Il giardino dei ciliegi, invece è un desiderio di speranza. I personaggi principali, che appunto sono tremendamente legati a questo giardino, a questa magione gigantesca, desiderano in qualche modo poter rimanere lì e vivere felicemente, ma purtroppo per i loro debiti finanziari questa cosa non è possibile. E loro per tutto quanto il racconto si raccontano favole, si illudono che le cose potranno andare bene, che effettivamente riusciranno a tornare alla vecchia ricchezza di un tempo e le soluzioni in realtà davanti a loro appaiono, vengono suggerite, ma non le ignorano, perché appunto, per esempio viene suggerita questa cosa da un personaggio da Lopakin di dividere il giardino per affittare le case e così guadagnarci. Un consiglio pratico, pragmatico. Molto pragmatico, ma purtroppo la proprietaria, Liuba, rifiuta perché appunto non vuole che il suo giardino venga distrutto, perché è segno di gioventù. Insomma un desiderio che sconfina quasi nell'essere dissociati dalla realtà, vivere in una fantasticheria. Proprio riguardo questo che dice, ovviamente il testo si rifà alla vita di Chekhov e lui nel 1904, quando viene pubblicata quest'opera, che è una delle sue ultime, stava morendo di tubercolosi. Quindi diciamo che questa mancanza di speranza che lui scrive e fa trasparire all'interno del testo del Giardino dei Ciliegi è sintomo della sua mancanza di speranza. Allora diciamo una cosa, appunto vi sto guardando con ammirazione e sto cercando di ricordare voi qualche anno fa al liceo, perché siete arrivati qui con la forza dei vostri studi e del vostro lavoro. Stiamo facendo forse un po' troppo accademia, scendiamo un po', ve lo dico io che sono stato il vostro professor, scendiamo un po' dalla cattedra, andiamo a sporcarci un po' nella... Torniamo alle origini. Ecco, voi cosa desideravate allora al liceo e cosa desiderate oggi? Cioè, Chekhov va benissimo, Osso Wells, Frank Capra, va tutto benissimo. Ma Leonardo e Leonardo, che cosa... Quale stella guardate con aspirazione, ambizione, desiderio, struggimento, metteteci quello che volete. La mia stella non prescinde da quella che è la mia passione, quindi dal cinema. Quindi io non a caso ho scelto i due film che ho scelto, nel senso che comunque nel momento in cui guardo il cinema, ovviamente, essendo un appassionato e parlando dell'umanità, ovviamente, mi immedesimo. E questi due film mi hanno fatto riflettere molto, perché la verità è che io non so cosa voglio, cosa desidero realmente. Ah, bello. Cioè, bello. Problemi grossi, però... No, è interessante, è interessante, è controverso. Però è vero, no? Vero, molte volte non sappiamo. No, nel senso che vedendo i due film che ho citato, quindi La vita è meravigliosa e Citizen Kane, la mia domanda è, è possibile, è un'utopia cercare di essere un ibrido tra questi due personaggi, quindi avere sostanzialmente i privilegi di un Charles Foster Kane, i privilegi, diciamo, economici e materiali, ma non rinunciare a quella che poi è la vita relazionale, che è quella che conta di più, come si è vista nella vita meravigliosa. È possibile, è un'utopia? A 23 anni me lo sto ancora chiedendo e vedremo se riuscirò a ottenerla. Cioè, ha usato delle parole molto forti, no? Cioè, da una parte voler affermarsi, no? Però dall'altra sapere che forse il segreto della vita sta, trova, sta nelle, ha detto, la dimensione relazionale. Sei d'accordo? Sono molto d'accordo. Allora, diciamo che per rispondere alla domanda, il mio pensiero riguardo alla difficoltà di rispondere alla domanda è molto affine. Cioè, è una domanda che mi mette in crisi, essenzialmente. Ma io ve le faccio apposta queste domande, se no... Lei è crudele, è come a scuola. Ecco. Però, diciamo, il desiderio, ovviamente, la prima cosa che mi viene in mente, pensando appunto a quando stavamo a scuola, è il mio voler diventare attore, banalmente. Però, ad oggi... Quindi già avevi le idee chiare, volevi fare l'attore? Sì, al liceo sì. Un po' lo facevi già in classe, eh? Recitavi la parte dello studente bravo, recitavi. Recitavi, esatto. Quello attento. Fammi poi lo studente attento? No, ti prego. Ah, sì. Però, vedi, è credibile, eh? Assolutamente. Ma comunque, come diceva Marlon Brando, tutti recitiamo sempre, quindi... Esatto. E forse Marlon Brando, come abbiamo celebrato il secolo dalla nascita, pochi giorni fa, forse è il più grande? Ma... Cain e George Bailey, il fatto che mi mette anche altri film che parlano di questa lacerazione tra chi vuole affermarsi a tutti i costi, preso anche da un forte egocentrismo. Assolutamente. Poi oggi è la cifra, forse, della società di oggi. Assolutamente. Anche se si parla di film magari di qualche decennio o riferita all'epoche passate, è invece un desiderio più profondo, no? No, infatti diciamo che i due film che ho citato sono precursori in quel senso, ma c'è un autore, diciamo, moderno, contemporaneo, che è appunto Damien Chazelle, che in tutta la sua filmografia ha come, diciamo, punto di riferimento quello del desiderio. Quindi sostanzialmente i suoi protagonisti sono sempre dei protagonisti che sono lacerati dal, diciamo, dal desiderio di affermarsi. Soltanto che sostanzialmente nella maggior parte dei casi, anzi in tutti i casi nei film di Chazelle, il lavoro, o comunque l'ambizione, prenderà il sopravvento. E volevo aggiungere, se mi permette, che nella società di oggi, come ha detto lei, l'egocentrismo, ma sostanzialmente la società di oggi io penso che ci costringa un po' tutti a essere dei Charles Foster Kane, quindi un po' il quarto potere. E quindi i George Bailey devono resistere. I George Bailey devono resistere. Ce la faremo. Con desiderio profondo oggi. Allora, appunto, interrogandomi e scavando all'interno dei meandri della mia memoria, io direi, la cosa che mi viene in mente spontanea è cercare me stesso, arrivare a fine vita, innamorandomi della mia vita, quindi distaccandomi dai personaggi di Anton Chekhov, testi che io ho scelto essenzialmente perché mi fanno arrabbiare, creano in me tremendamente rabbia, perché falliscono... Con dei testi che ti mettono in crisi e che ti fanno anche arrabbiare, è bello. Mi fanno arrabbiare tantissimo perché i personaggi li odio, loro falliscono di fronte alla vita, li interpreto assolutamente, perché è sempre un arricchimento interpretare personaggi lontani. Non c'è la grandezza anche della letteratura, perché sono più reali quasi spesso del reale. Mi fai venire in mente questo fatto del tuo desiderio di conoscere te stesso, che poi è l'antica saggezza dei greci, conosci te stesso. Una canzone di un cantautore della Magna Grecia, cioè calabrese, Brunori Sass. Ne ascoltiamo un piccolo brano, canzone contro la paura, che parla proprio di questo fatto, che l'arte molte volte è il canale, è il cammino, è il percorso che ci permette di conoscere noi stessi. Sentiamo Brunori. Scrivo canzoni poco intelligenti, che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma, canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia ad abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto, che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, Io canto solo per me. Ecco qui, questo è Bruno Risas, Dario Bruno Risas, bel cantatore. Nel finale di questa canzone gli dice, ma non ti sembra un miracolo? Eh, non lo vedo più. Non ti sembra un miracolo che a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, per scoprire chi sei? Cioè l'arte, non è forse voi che vi, ogni giorno vi impolverate di questa polvere di stelle, sempre le stelle, che è il cinema, che è l'arte, che è il teatro, eccetera. Non è allora una via per conoscersi più in profondità? E non è nel caso di Bruno Risas, questa canzone, in fondo, dice, anche lui come te, che è diviso in due. Tra l'impegno, la voglia di trasformare il mondo, e la voglia invece di uniformarsi, ma nel senso più banale, no? Scegliere la via della semplicità, non della semplicità magari, ma della superficialità. Della leggerizza. Nella canzone dice, voglio essere banale, superficiale, leggero, perché non ha più senso mordere, non ho più i denti, dice, non ha più senso mordere la vita, mordere il mondo. Ma mentre sta dicendo questo, insorge il George Bailey, e lui dice, no, voglio fare una canzone contro la paura. Una canzone che, in qualche modo, anche gli altri possono cantare tutti quanti insieme. Avevamo detto nella scorsa puntata, che la differenza tra sogno e miraggio, è che il miraggio è solitario, il sogno è condiviso. Ecco, siamo ancora qui in fondo, no? Tra un desiderio, che è soltanto la pulsione di un individuo solitario, oppure un desiderio di essere utile agli altri, di trasformare il mondo. Non è quello che stavi dicendo un po' tu? Non voglio fare il tuo... No, beh, George Bailey è esattamente questo, no? Nel senso che George Bailey, attraverso, diciamo, la sua banca, i suoi finanziamenti, cerca di aiutare gli altri. Ma questo mi fa venire anche in mente, tornando a Chazelle, La La Land. Nel senso che in La La Land il protagonista cerca di raggiungere il proprio sogno, ovvero di vivere di jazz. Soltanto che finché non è, diciamo... Il famoso manifesto di La La Land, bellissimo. Esattamente. Però quel finale a me mi ha fatto arrabbiare come i personaggi di Chaco. Perché qual è il punto? Che il protagonista, finché è legato al personaggio di Emma Stone, cioè Mia, non riesce realmente a raggiungere il suo sogno, il suo desiderio. Quindi ci riuniamo anche alla puntata precedente. Il suo desiderio, ovvero di vivere di jazz, ma nella maniera più pura, cioè nella maniera più viscerale. E quindi, diciamo, che produce musica commerciale. Invece, appena si stacca dalle relazioni, quindi da quelli che sono i contatti relazionali emotivi, riesce poi ad aprire il suo pub e a vivere la sua passione nella maniera più pura. Tant'è che alla fine, quando Mia finisce nel pub, sostanzialmente loro vivono in uno sguardo la vita che avrebbero potuto vivere assieme se non avessero scelto entrambi di inseguire i propri desideri. E scelgono di non ritornare insieme, perché scelgono sostanzialmente di dare adito soltanto al proprio desiderio e non a quelle che sono le relazioni umane. Sì, da qui la rabbia nello spettatore. Ma penso sia la grandezza del film, proprio perché fa arrabbiare la fine. E i film o i libri, come anzi, le opere d'arte che in qualche modo ci scuotono dal nostro torpore. Con una realtà alla fine. Con una realtà che graffia, che è quasi uno schiaffo in faccia, però ci fanno del bene alla fine. Infatti io dico sempre quando mi dicono che il cinema è un modo per evalde della realtà, io penso sia esattamente il contrario. Io quando vedo un film è sostanzialmente una psicanalisi, per quanto mi riguarda. Sì, sono d'accordo, molto. Mi sa che a liceo avete avuto dei professori un po' inquietanti che ci hanno fatto dei danni irreparabili. Però è interessante questa cosa. Non evasione, ma la visione di un film allarga la nostra visione del mondo. Cioè poi tu esci dalla sala cinematografica, esci dal palco del teatro, dove hai visto Shakespeare, Chekhov, Pirandello, poi qui ti puoi divertire. E affronti il mondo con una marcia in più, con una forza in più, con una visione più larga. Cioè, Daniel Pennac, un famoso romanziere francese, in un saggio che si chiama Come un romanzo, dice, leggere un libro è uscire dal mondo per rientrarvi e darne un senso, e dare un senso al mondo. Esattamente. Vi trovo d'accordo questa cosa? Sono perfettamente d'accordo, assolutamente d'accordo. E però tu hai calato prima un asso portentoso, hai detto una parola, un aggettivo. No, stai calmo. La parola è felice, felicità. La felicità. È potente sta parola. Allora, io infatti se posso ricollegarmi anche a questo discorso che stava facendo il nostro Marcucci. Assolutamente. La La Land, questo desiderio, questa felicità, e questo accontentarsi, di cui parlava anche Brunori nella sua canzone, io sono d'accordo con lui, col significato della canzone. Cioè, io non potrei accettare nella mia vita l'accontentarmi. Il tempo stringe, devo chiudere, però è bello questo accontentarsi versus felicità. Felice è diverso da contento. I latini sempre qui. Il contento, l'abbiamo capito, cos'è? Te sei accontentato. Il felice c'è dentro la parola fecondo. Cioè, il felice è qualcosa che genera qualche cosa, che è Giorgio Belli, che poi è questa. E allora io chiuderei con questa cosa. Da una parte c'è il desiderio con la D maiuscola. Il desiderio. Dall'altra ci sono i desideri, i tanti piccoli desideri degli uomini. In fondo, se uno legge la Bibbia, nell'Antico Testamento ci sono dieci condimenti di cui due sono dedicate ai desideri, ma sono i desideri, quelli disonesti, quelli sbagliati, quelli che l'uomo insegue questi piccoli desideri che lo rendono piccolo. Ma invece c'è un grande desiderio, la D maiuscola, che è quello più profondo e che l'uomo deve scavare dentro se stesso e che è rappresentato, secondo me, in questa brevissima poesia con cui chiudiamo la puntata. Se la regia mi fa vedere, ecco, Raymond Carvey, Late Fragment, l'ultimo frammento, sono due versi che dicono così, di questo grande poeta americano. And did you get what you wanted from this life even so? I did. And what did you want? To call myself be loved, to feel myself be loved on this earth. Che vuol dire, semplicemente, hai ottenuto tutto quello che volevi dalla vita, nonostante tutto? Sì, l'ho ottenuto. E cos'è che volevi? Potermi chiamare amato sulla terra, sentirmi amato su questa terra. Mi sembra che chiude bene tutto quello che ci siamo detto. E' esattamente quello che voleva Charles Foster Kane. E l'aveva perso, aveva smarrito. E la ricerca d'amore dei tuoi disperati che ti fanno arrabbiare. Torna tutto. Speriamo che i nostri ascoltatori non si siano arrabbiati o speriamo di sì, nel senso buono o fecondo del termine. Per saperne di più dobbiamo andare a fare la terza puntata che parlerà del, finalmente, partire, uscire. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima, grazie. Grazie a tutti.